Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo episodio su Minecraft Oggi sono qui di nuovo nel server di iPixel.net Per giocare al minigame poliziotti contro criminali Ok, noi siamo in un team deathmatch Quindi il primo team che raggiunge 1000 punti ha vinto la partita E come vedete siamo dei poliziotti Iniziamo subito a comprare un'arma Direi di comprare qualcosa che fa molto molto danno Quindi possiamo provare con l'M4 Perché c'è anche il fucile da cecchino Ma per il momento preferisco usare un'arma d'assalto Ok, vai, andiamo tutti Guardate come sono fiero con questo cappellino da poliziotti ragazzi È incredibile Troppo troppo figo Comunque vediamo un po' dove si nascondono questi maledetti Eccolo lì ragazzi, eccolo Vai uccidilo Sono stato io, scusa per averti rubato la kill Ma direi che ci stava Perfetto Saliamo qui sopra E vediamo un po' cosa c'è di bello Dall'alto Non posso Ragazzi, ok Mamma mia, meno male Meno male Ho distrutto quello Mi stavo ammazzando Avete visto? Lì c'è un altro È stabilissima Comunque l'ho ucciso Ma avete visto come è instabile quest'arma Ok, eccolo un altro Eccolo un altro Morici Pistola tattica Non va bene ragazzi Vabbè, mi devo buttare Mi ha rotto le scatole Vieni qua Ok, qui ce n'è uno Prendiamo la coltellate Me l'avete rubato Maledetti Me l'avete rubato Non mi perdonerò mai Ok, ricarichiamo tutte le armi E vediamo di acciuffare questo No, qui c'è questo Ce ne sono due ragazzi Oh, mi sono fatto due kill E sono anche stato Voglio anche passare qui Vai Perfetto ragazzi Mi sono fatto due kill Qui ho visto che c'era qualcuno nascosto Vediamo un attimo di prenderlo Ok Ah, ecco dove spawnano quelli lì Eccolo Vai che ci muori, vai che ci muori Devo scendere a coltellate E li devo prendere Vai, 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 vai No ragazzi Siamo stato ucciso Ma avete visto Stavo riuscendo a killarlo con il coltello Comunque dai Ricambiamo l'arma E mettiamo la K47 Anche se come sapete La K47 Ha un rinculo estremo Quindi Sarà difficile uccidere qualcuno Ma non questo Vai così Due ragazzi Due ragazzi Oh mio dio Oh mio dio Fatevi vedere Fatevi vedere Vado qua sotto Dai forse è meglio Uh Oh mio dio Di nuovo headshot Oh mio dio ragazzi Stiamo dominando Avete visto dove stanno Scendiamo sotto Scendiamo sotto Forse è meglio Ok Risaliamo da questo lato Vai, 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 vai Vai che vi prendo Vai che vi prendo Dove siete? Eccolo, eccolo, eccolo Ragazzi Sì Preso E mi stanno anche sparando Da dove? Non lo so Ok, questi sono dei miei Perfetto Guardi ragazzi Quanti Quante kill mi sto facendo Siamo a 485 punti Quindi dai Cerchiamo di sbrigarci Così arriviamo E mille e vinciamo questa partita Dai fatevi vedere Vi sto massacrando Vi sto massacrando Ok questo è dei miei quindi direi di andare all'esterno Perché all'esterno Si trovano di più questi qui Eccoli lì ragazzi eccoli preso headshot Ok Vai Ci devo pensare io qual è il problema No questo mi ammazza Pistola tattica si non l'ho ucciso io Ricarichiamo eccoli lì ragazzi Li devo prendere Ok vai da dietro Mamma mia quante kill mi sto facendo Incredibile Incredibile vai Non ci fermiamo ragazzi non mi devo fermare Perché se mi fermo poi perdo il ritmo Vai fatevi vedere Eccolo ok nascondiamoci No vabbè erano in 37.000 Lì ragazzi è normale che mi uccidevano 37.000 Comunque mi sono fatto certe Triple incredibili Ragazzi avete visto Mamma mia Dovrei essere forse il primo della mia squadra Ma non ne sono sicuro Dopo vediamo a fine partita Dai 720 punti Stiamo dominando Vai fatevi vedere Maledetti Eccoli lì ragazzi Mi ha visto mi ha visto Mi ha visto mi ha visto Eh ma con questo fucilazzo da cecchino mi ammazzi Bravissimo Vabbè io ve lo faccio vedere ragazzi Anche se comunque è difficilissimo Usare questo Questo fucile da cecchino È veramente veramente difficile Perché bisogna stare fermi Eccoli Headshot Headshot Mamma mia ragazzi Mi sono fatto un headshot Con il cecchino Incredibile Incredibile Ok Vai vediamo un attimo Se possiamo fare altre cose Sono stato ammazzato ovviamente Comunque non mi va Di usare il cecchino ragazzi Preferisco Adesso usare il pompa Il pompa anche Sa il fatto suo È pronto A devastare tutti Dove mi sta sparando? Da dove? Da dietro mi sa Oh granata Vai fatevi vedere Devo provare il mio Ecco Ecco No ragazzi Non ce la faccio Non ce la faccio Mamma mia L'ho preso in petto Io ho fatto anche Headshot Oh mio dio Oh mio dio Vai continuiamo così Stiamo vincendo ragazzi Mancano giusto 40 punti Tipo Sì Dai Mancano tipo 60 punti Possiamo farci Eccolo lì Eccolo Eh ma qui ce ne sono Tanti Ce ne sono tantissimi Vediamo un attimo Se possiamo girarli Lo so che siete qui dentro Maledetti lo so Boom Ma dai Vaffanculo Vaffanculo Rimettiamo le Rimettiamo un attimo L'MP5 ragazzi Dai Mancano 20 punti Quindi direi che abbiamo vinto Game over E non sono stato Il top cop E non capisco Quante kill ho fatto Ma avete visto Ho fatto Ecco 15 kill A destra mi dice 15 kill Quindi wow 15 kill in questa partita Sono tantissimi Ragazzi Sono tantissime Oh mio dio Vabbè ragazzi Dai Direi che con questo è tutto Perché questo è il video Che Che faccio uscire Diciamo Verso C'è di sera No Quindi Ci sta un minigame Tranquillo Prima di andare a dormire No E dai Ci sentiamo ad un prossimo episodio Ciao ragazzi Ciao